E' fuori pericolo Carmine Sanseverino, il medico del reparto di medicina d'urgenza del Moscati rimasto contagiato dal coronavirus. Tra poche ore sarà trasferito dalla terapia intensiva nel reparto di degenza ordinaria. Ricoverato dallo scorso 14 aprile, Sanseverino finalmente respira da solo, senza il supporto del ventilatore polmonare, al quale è stato attaccato per quasi un mese. Quasi due mesi di battaglia per il medico simbolo della lotta al covid-19. L'abbraccio con i suoi familiari potrebbe avvenire già nel corso di questa settimana. E' stata dura il pensare, abbiamo pensato al peggio, devo dire la verità. Dopo due mesi possiamo dire che ce l'abbiamo fatta, insomma. Quindi, meno male, grazie alla porta di papà, ma soprattutto grazie alla competenza dei medici e anche al donatore di plasma. Ringraziamo veramente tantissimo il donatore. Adesso papà è fuori pericolo, resta comunque un paziente molto delicato e quindi bisogna prestare le dovute attenzioni. Ieri siamo riusciti a sentirlo e la prima cosa che lui ci ha detto è stata come state. Lui che l'ha domandato a noi è stato meraviglioso, devo dire la verità, è anche stupefacente. Non vediamo l'ora di riabbracciarlo. Ovviamente lo attendiamo tutti quanti. Ringrazio ovviamente tutta la città per la vicinanza eccetera e adesso, presto, quando potrà, scriverà anche lui sui social eccetera. Grazie a tutti.